Salve a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV, ci sono queste correnti meridionali nelle ultime ore che stanno facendo rapidamente sciogliere la neve caduta abbondante su molte zone della provincia di Potenza e sull'alta collina materana, intorno ai 700-800 m, come nelle zone di Stigliano, del parco Gallipoli Cognato, è una situazione che tende a far rapidamente sciogliere questo manto nevoso, soprattutto nelle quote più basse, perché i venti da sud stanno portando temperature su livelli superiori alle medie, in questo momento mentre vi parlo a Potenza ci sono circa 9,5 gradi, arriveremo sui 10 gradi di massima, ma soprattutto domani, vedremo poi l'aumento sarà maggiore, perché questa circolazione depressionaria presente ad ovest della penisola fa da richiamo ad aria più calda proveniente da Nord Africa, mentre l'aria fredda tende a scivolare sul lato sinistro della depressione e quindi verso il Nord Africa. Vediamo l'immagine del satellite, ci mostra appunto questa situazione, vedete l'aria fredda che scorre a lato sull'ovest del continente, va a interessare Portogallo e Spagna, quelle nubi a forma di ciottoli, l'aria fredda è indicata proprio dalla presenza di quelle nubi così irregolari, mentre l'aria calda con tutta questa presenza di nubi sull'Italia viene proprio dal Nord Africa e quindi tende ad interessare le regioni meridionali in modo più sensibile, portando valori di temperatura più alta e poche piogge fortunatamente, mentre le grosse precipitazioni, quelle più abbondanti stanno sull'Italia centro-settentrionale. Vediamo anche l'ingrandimento del satellite dall'alto dei 36 mila chilometri e come vi dicevo prima, il grosso delle precipitazioni sta sul centro Nord, dove la neve è anche abbondante sulle Alpi e sono previsti quantitativi fino a un metro di neve in 24 ore, mentre come potete vedere Sicilia, parte della Calabria, Puglia e parte della Basilicata sono senza nubi, un po' di nuvolosità irregolare presente sulla fascia centro-occidentale della Basilicata, ma si tratta di nubi sterili, al quinterno non sono previste, al quinterno non vi sono piogge o nevicate, anche perché le temperature come dicevo si sono notevolmente alzate, quindi lo zero termico in questo momento è superiore anche ai 2000 metri. Quindi con questa situazione vediamo per la seconda parte della giornata odierna il tempo che cosa ci riserva, abbiamo visto questa nuvolosità presente sulle zone appenniniche che continuerà a mantenersi in modo irregolare sulla nostra regione, ma senza dare precipitazioni significative, quindi nel corso della serata e della notte questa nuvolosità tenderà ulteriormente ad attenuarsi. Più schiarite saranno possibili come abbiamo visto anche dal satellite sul lato orientale, quindi su tutta la provincia di Matera. Per quanto riguarda la giornata di domani, il tempo mentre sul centro nord continuerà a essere piuttosto perturbato, al sud sarà una bella giornata con temperature decisamente primaverili perché avremo un aumento sensibile, poi vedremo con la cartella di spaghetti di quanto è questo aumento rispetto alla media. Quindi domani vediamo una giornata all'insegna del bel tempo, quindi nuvolosità irregolare soprattutto sulla fascia ionica dove sarà forte lo scirocco, ecco il motivo della nuvolosità sul lato orientale della Basilicata, ma senza fenomeni, invece più sole sulle montagne, quindi sulla parte interna del Potentino dove le nubi giocheranno a scondino con il sole, ma saranno prevalenti le schiarite. Farà molto caldo, quindi vediamo la situazione termica prevista per domani, valori di temperature massime intorno ai 15 gradi sia a Potenza che a Matera, sono valori sensibilmente superiori soprattutto a Potenza, abbiamo valori di circa 9 gradi in più della media, a Matera di 6 gradi in più, ma sono valori che salgono di molto dovuto ai venti da sud, come potete vedere, venti sostenuti moderati o forti sul lato centro-occidentale, forti o molto forti sul lato orientale, dove il marionio è agitato, il terreno invece è molto mosso. I valori minimi delle temperature vedete intorno ai 5 gradi a Potenza, 10 gradi a Matera, anche qui si tratta di valori superiori alle medie. Durante la notte di sabato avremo un progressivo peggioramento, quindi domani sera c'è da aspettarsi un veloce peggioramento, nelle tardi ore di domani sera, verso la notte tra sabato e domenica e le prime ore di domenica avremo il passaggio di una perturbazione piuttosto veloce che segnerà il limite tra l'aria calda che andrà via e l'aria più fredda proveniente da ovest, sempre aria relativamente fredda, non freddissima, che accompagnerà la perturbazione. Vediamo quindi la domenica, avremo proprio nelle primissime ore della giornata, quindi parliamo delle 4, delle 5, delle 6 di domenica mattina, avremo delle piogge, soprattutto sulle zone occidentali dove sulla parte tirenica perdureranno per tutta la giornata, nevicate che torneranno a cadere intorno ai 1300-1400 metri, poi avremo questo passaggio rapido della perturbazione, rimarrà un po' di instabilità generalizzata sulla nostra regione con qualche pioggia, ma dovrebbero tornare a prevare le schiarite in un contesto però più fresco, sicuramente i valori di domani andranno via, i 15 gradi ce li dimentichiamo, almeno a potenza, vediamo infatti i valori per quanto riguarda la domenica, valori di 4 la minima a potenza e 9 la massima, siamo ancora superiori alle medie, ma con valori più contenuti rispetto al sabato, a Matera 10 la minima e 14 la massima, i venti vedete da sud-est, sud ruotano a sud-ovest, vanno scemando di intensità, però i mari rimangono ancora piuttosto molto mosso, mosso in molto mosso il tirreno, è agitato lo Ionio, questa situazione prelude come dicevo a un temporaneo miglioramento, però poi lunedì c'è un nuovo peggioramento, la depressione andrà formandosi sullo Ionio e quindi torneranno soprattutto nella seconda parte della giornata nubi e piogge, vediamo, questa è la giornata di lunedì, soprattutto si riferisce alla seconda parte, dopo una mattinata all'insegna della variabilità, nel pomeriggio tenderà a peggiorare, questa volta da est arriva il peggioramento, quindi dal lato del Materano avremo pioggia via via più significative nella seconda parte della giornata e che poi andranno orientandosi verso ovest e quindi andranno a interessare tutto il territorio entro la serata con il ritorno della neve in montagna intorno ai 1300-1400 metri. Questa situazione si protellerà anche nei giorni di martedì e mercoledì quando la depressione dovrebbe stazionare per più ore sullo Ionio e porterà altre precipitazioni piuttosto intense, sembrerebbe almeno sulla base dei modelli odierni, sulle zone centro-orientali della regione e tornerà la neve abbondante sull'Appennino, ma a quote non basse, quindi sicuramente almeno, stando alle cartine di oggi, oltre i 1000-1200 metri, vedremo poi nei prossimi giorni se questa quota sarà in discesa per l'arrivo di aria più fredda, anche se attualmente non è prevista l'arrivo di aria fredda. Vediamo la cartina degli spaghetti che ci aiuta in questa, soprattutto dal punto di vista termico, vedete la linea rossa delle temperature, siamo su valori altissimi, questi valori si alzeranno ancora di più domani, vedete 10 gradi in più delle medie probabilmente, quindi valori esagerati e poi una brusca frenata, vedete una brusca sterzata verso il basso nella giornata di domenica e poi per diversi giorni le temperature dovrebbero mantenersi leggermente al di sotto della media, senza picchi però estremi. Il quadro inferiore invece ci mostra le precipitazioni, un poco di precipitazioni previste tra sabato notte e domenica mattina e poi come vi dicevo tra lunedì sera, martedì e mercoledì è previsto un picco di precipitazioni dovuto alla presenza di una depressione sull'Ionio con il ritorno della neve abbondante in montagna. Vediamo anche dalla cartina del modello canadese questa volta, Gem, si nota poco l'Italia, i più esperti la possono vedere, comunque notate un promontorio di anticiclone sulla Spagna, i colori giallo-arancione, poi c'è una depressione proprio presente a sud della Calabria, tra Calabria e Sicilia, in seno alla quale ruotano queste correnti che porteranno un peggioramento nei primi giorni della prossima settimana, soprattutto sulle regioni meridionali, ecco il motivo del peggioramento previsto sulla nostra regione da lunedì, con il ritorno della neve in montagna, con temperature che ritornano a essere leggermente al di sotto della media, ma non avremo sicuramente ondate invernali, almeno a breve e medio termine, poi vedremo se l'inverno, quello serio, vorrà tornare a farci visita nel mese di febbraio. Le messe ci possono essere, ma a livello di previsioni siamo ancora lontani da tutto ciò. Per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata, buon weekend e arrivederci sulla nuova TV. Grazie a tutti.